ma anche il pezzo che viene in qua piatto c'è giù tanto così di acqua e c'è giù dentro mezzo metro e ai 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 si è scavato anche era la scavetta e ci voleva ci voleva rotto via però sotto c'è un buco della madonna si è attaccato le mutande di spampi la canottiera del renzo e le calze del francesco a presto prova del buco adesso hai scavato tutto anche qua sotto se adesso sbagli vai dentro comunque nell'acqua bene ma intanto gli espruzziamo dentro lo stesso scoto no lo spruzzi quello è come il silicone poi cacci dentro questo e lo avviti in teoria non viene fuori più no lo spruzzi no lo spruzzi no lo spruzzi Grazie a tutti.